buongiorno a tutti allora oggi ho comprato queste queste cose qua fatta a siringhi così vedete comunque qua è già tema halloween vedete tema halloween da prese dallo di store e allora adesso andremo ad assaggiarle una è gosto di coca cola l'altra dovrebbe essere tipo la fragola qualcosa del genere non lo so non lo assaggiamo però bisogna tagliare qui questo è un attimo che metto gli occhiali perché ci vedo ecco adesso ci vedo la cosa qui di plastica siamo a togliere e nemmeno ad assaggiarla prima vediamo com'è è tipo una molliccia un gusto molliccio di coca cola è buono non è male sì non è male adesso andiamo a assaggiare l'altro togliamo sempre la crisi in plastica se no non si può fare niente ragazzi ecco fatto seguiamo questo qui seguiamo com'è breve fragola ma diciamo che è molliccio è gelatinosa ecco è gelatinosa comunque buone tutti e due uno coca cola e l'altro fragola io vi saluto vi ringrazio sempre di guardare i miei video e ci vediamo presto presto ciao allegria ciao